Il lupo e l'airone Un lupo aveva ingoiato uno sticcino che gli era rimasto conficcato in gola. Prese a vagare dappertutto, nella speranza di trovare qualcuno che riuscisse a tirarglielo fuori. Finalmente incontrò un airone e gli chiese di estrargli l'osso dalla gola. In cambio, gli promise una lauta ricompensa. L'airone provò, provò e ci riuscì. Ecco fatto! Ora dammi ciò che mi hai promesso, disse l'airone. Amico mio, hai infilato la testa nella bocca di un lupo. Dovresti essere contento di averla ancora tutta intera, replicò il lupo. Come hai il coraggio di chiedere di più? Dovresti essere contento di averla ancora tutta intera, replicò il lupo. Grazie. Grazie.